Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questo nuovo video, un video che volevo fare da un bel po' di tempo. Questo sì è un unboxing, però ho colto l'occasione dell'unboxing per parlarvi di un argomento abbastanza spinoso che ho trattato pochissime volte, ovvero i Funko Pop. Allora io non ho un grandissimo rapporto con questa collezione, diciamo che non è assolutamente nelle mie corde, partiamo dal presupposto che ognuno chiaramente è libero di collezionare ciò che vuole, ma adesso vi spiegherò i miei motivi. Partiamo dal fatto che secondo me i Funko Pop si dividono in due categorie, due macro categorie, che sono queste, vi prendo due Funko Pop che ho qui, quelli totalmente inutili, tipo questo, adesso vi spiegherò il perché, e quelli lì invece carini, accettabili, fatti anche abbastanza bene, tipo questo. Perché dico così? Perché, ragazzi, è una collezione talmente particolare che dipende molto dal personaggio che rappresenta se la figure è riuscita o no. Perché, ragazzi? Perché ho detto che questo fa parte della categoria di quelli inutili? Perché, ragazzi, aprendo la confezione, togliendo questo pupazzetto da qui dentro, rimane questo. Io so che molti collezionano con la confezione, eccetera, eccetera, ma perché sono costretti? Perché, ragazzi, questo personaggio qui, senza la confezione, senza sapere che era Catwoman, chi, chi mai capirebbe che questo è Catwoman? Assolutamente nessuno, perché non ha neanche i tratti del viso di Selina Kyle, non ha nulla, non è Catwoman, è una tizia con gli occhialoni, una fascia con delle orecchie e una frusta, una tizia sadomaso, diciamo, vabbè, lasciamo perdere. Quindi questo. E di questa categoria, diciamo, questo è ancora troppo particolarizzato, ma ci sono certi, veramente, che senza la confezione non si sa chi siano, tipo un Jesse Pinkman di Breaking Bad, un tizio con una felpa, senza nessun tratto somatico, che identifichi la figure per Jesse Pinkman. Questa è la categoria di Funko Pop, per me, totalmente inutili, e ce ne sono tanti, purtroppo, perché, secondo me, è proprio sbagliato il concetto di base, ovvero non fare i tratti del volto, che sono la parte più caratteristica di una persona, di un personaggio. È stata una scelta molto strana, non troppo, in realtà, perché hanno puntato a risparmiare il più possibile, ovvero a fare il tutto più possibile uguale, ovvero ad avere sempre lo stesso volto. Questo, invece, è Batman, ragazzi, va. Batman, serie animata, riconoscibilissimo, nonostante il viso particolare, ragazzi. Questo ha talmente tanti di quei tratti, che comunque si riconosce, almeno. Non ho mai amato, comunque, questa testa enorme quadrata, però almeno si riconosce questo, non dico tanto. E adesso veniamo a noi. Cosa c'è in questo pacco, ragazzi? In questo pacco vi do un'alternativa ai Funko Pop. Un'alternativa esattamente della stessa fascia di prezzo e categoria dei Funko Pop, che per me è fatta meglio. Per me è fatta meglio. Adesso andiamo a scoprire un attimo. E vi faccio vedere di cosa si tratta. Probabilmente sarete già spoilerati dal titolo, però voglio mantenere ancora un po' il mistero. Ragazzi, sto parlando di una serie che ho scoperto, praticamente, l'altro giorno. Non avevo alcuna idea della sua esistenza, finché appunto non li ho trovati per caso su internet. Però prima, volevo farvi vedere quest'altro grande ritorno, ragazzi. Continuate a farmelo fuori, questa è l'ultimissima copia che posso recuperare dal fornitore. Quindi, figure migliore di Rufy in circolazione mai fatta. A parte questo, torniamo a noi. Sto parlando dei Minix, ragazzi. Cosa sono i Minix? Sono i Funko Pop fatti meglio. Questa è Eleven. Undici, da Stranger Things, ragazzi. Guardatela. Ha il corpo caricaturale, la testa leggermente più grande, senza il testone quadrato enorme. Ma su quello non è che sono contro, ragazzi. Quello è gusto personale. Quello che è oggettivo, ragazzi, è che questa ha i tratti del viso. Questa somiglia al personaggio. Non è un cubo con degli occhi e basta, senza nessuna somiglianza, ragazzi. Mettiamoli a confronto. Questa è la versione Minix. Questa a fianco è la versione Funko Pop, ragazzi. Dai. Dai. Io capisco che ormai è diventato un design caratteristico quello dei Funko Pop. Ma è un design che secondo me è in partenza. È sbagliato. Ha avuto la fortuna di diventare di moda. Tutto qua. E possiamo farla cadere, questa moda, e andare a collezionare magari qualcosa con un po' più di cuore. Come si sta dicendo magari della serie di One Piece in questo periodo. Questi secondo me hanno un po' più di cuore. Perché almeno si sono impegnati a fare il viso, ragazzi. E non a sfornare degli sculpt tutti uguali, modificando solo il corpo e dei particolarini del viso. Hanno fatto centro con il marketing, quelli della Funko. E voi vi siete fatti abbindolare. Permettetemi il termine. Sono fatti veramente con due soldi Funko Pop, eh. Con due soldi. Questi costano esattamente uguale. Ma adesso ce ne sono altri, ragazzi. Vi faccio vedere altri perché sono veramente fighi. E spaziano ovunque, diciamo. Anime, manga, serie tv, videogiochi. Insomma. Vediamo cosa c'è qui. Quest'altro cartoncino. Sono tutti diversi, dovrebbero essere. Ecco qua, ecco qua. Questo è proprio l'esempio più palese. Breaking Bad, di cui parlavo prima. Saul Goodman. Guardatelo. Cioè, è lui. Guardate la somiglianza con l'attore. Ragazzi. Funko Pop a fianco. Vi prego. Vi prego. Cioè, questo è un bel collezionabile caricaturale. Ci voleva tanto? No. E vabbè, questo lo devo far vedere per ultimo perché è il più bello di tutti. La regina Elisabetta. Ragazzi. Di che cosa stiamo parlando qui? Di che cosa stiamo parlando qui? Funko Pop a fianco. Dai, ragazzi. L'unica cosa carina del Funko Pop è che c'ha il corgi, ma... Cioè, volete mettere? Volete mettere? Poi la confezione è anche molto figa. Con le schizze dorate. E tra l'altro più compatta ancora. Per averne ancora di più e occupare meno spazio. Ancora. Stranger Things. Abbiamo Dustin. Eccolo qui. Non farò il paragone ovviamente con tutti quanti e il loro Pop. Ci siamo capiti. Ragazzi, ma sono di un altro livello. Sono di un altro livello. Eccolo lì. Walter White. Dai, ragazzi. Spettacolare la somiglianza. Ancora. Abbiamo così Siri da The Witcher. Eccola qui. Questa in particolare è dalla serie Netflix. Un'espressione del volto, degli occhi. Diversi dai pallini neri. Ancora. Ecco qua. Anime. Sasuke. Sasuke caricaturale. Confezione fighissima. Ma con un'espressione nel volto. Un volto unico. Non il solito volto quadrato, riciclato e applicato ad ogni singolo personaggio. E ancora. Ripeto. Io non voglio assolutamente dirvi cosa collezionare, ragazzi. Ci mancherebbe. Però, però, ragazzi. Dai. Un minimo di oggettività. Chiaramente non c'è niente di male se collezionate, se vi piacciono i Funko Pop. Ripeto. Ma ripeto. Un minimo di oggettività. La casa di carta. C'è di tutto e di più. Ragazzi. Veramente. Roki. Dai, ragazzi. Roki. Di che cosa stiamo parlando? Chiaramente tutti questi li trovate sul mio sito Arashop. Inutile dirlo. Lì qui sto su descrizione. Roki. Eccolo. Che aiutano anche tantissimo a raggiungere la spedizione gratuita. Attenzione. Attenzione. Un ottimo metodo. Cobra Kai. Johnny Lawrence. Guardalo. Guardalo. E lui. E lui. Mercoledì. C'è tutto. Eccole lì. Confezioni, ripeto. Fighissime, tra l'altro. Per chi appunto colleziona nella confezione. Questi anche sono fatti principalmente per quello. E finiamo. Con Squid Game. Ne ho presi un po'. Diciamo un po' di campioni. Che spaziano un attimo. Ma ce ne sono tanti altri ragazzi. Ce ne sono tanti altri. E secondo me questa è una serie. Su cui puntare. Io non ho messo di proposito. I Funko Pop sul sito. Perché non. Non mi piacciono. Punto e basta. Sono l'unico pazzo. L'unico venditore in tutta Italia. Che fa così. Ma per me è così. Basta. Io ragiono così. E faccio le cose a modo mio. Ce ne sono. C'è qualche Funko Pop di Batman. Quelli lì appunto che ho detto. Della categoria un po' più. Figa. Ma io punto su questi. Ragazzi. Io ne prenderò altri di questi. Io voglio che questi abbiano successo. Perché sono. Fatti con criterio. Sono i Funko Pop. Come dovevano essere. Sono quello che doveva andare. Di moda. Quello che dovevano essere i Funko Pop. Sono questi. I Minix. I Minix. Ragazzi. Per piacere. Facciamoli girare. Facciamoli diventare. I nuovi Funko Pop. Vi prego. Vi prego. Perché. Almeno qui c'è dell'impegno. Vi prego. Vi prego. Comunque. Video polemica. Finito qui. Fatemi sapere cosa ne pensate. Con calma. Senza insulti. Eccetera eccetera. Con un commento qui sotto. Ragazzi. Non vi scannate. Anche tre di voi. Perché so che lo fate. Io vi ringrazio. Come sempre. Per la visione. Ciao da Ara. Come sempre da sempre.